Grazie a Serena Contini che fa gli onori di casa, questa sede che è la più adatta naturalmente a ospitare un'iniziativa come questa, che fa seguito alla pubblicazione, non molto tempo fa, questo rende ragione anche di ritmi abbastanza sostenuti, anche se come potete immaginare la preparazione di questo volume è stata piuttosto lenta, che fa seguito alla pubblicazione della storia di Varese e del volume relativo alla Varese romana. Ora abbiamo la preistoria e la protostoria, uno dei periodi più affascinanti e anche più direttamente coinvolgenti per il nostro territorio, che per lo specialista naturalmente è una miniera di notizie, informazioni, novità, con specialisti che si occupano di questo territorio che in qualche caso possono rappresentare anche per noi una sorpresa. Pensate che la paleoetnografia del territorio di Varese, lo studio è stato affidato a uno specialista dell'Università di Nottingham. Quindi abbiamo, vedete, l'interesse per questo territorio che grazie anche al coordinamento del professor Maurizio Arari che dirige l'incontro ha dato esiti notevoli per quanto riguarda anche la lettura agevole di reperti che non ci aspetteremmo tali. Penso per esempio a quel capitolo che chiude il volume e che racconta, come solo lui lo sa fare, le monete da parte di Ermano Slano. Lo racconto e mi piace ricordarlo perché l'ultima iniziativa che abbiamo avuto di recente col Centro Storie Locali cadeva proprio nel giorno in cui Arlano era stato insegnato del titolo di socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Abbiamo qui gli illustri specialisti che hanno collaborato al volume e che lascio al professor Arari il piacere di presentare. Volevo solo ricordare, e un cenno lo farà anche Maurizio, immagino la morte di uno dei collaboratori, il professor Prosdocimi dell'Università di Padova, in un articolo che però è stato portato a termine e ampliato dalla professoressa Solinas, quindi non è un buco che ha lasciato, ed è quello dove chi è interessato a elementi che sono non soltanto legati alla protostoria in senso materiale, archeologico, ma anche all'elemento linguistico, che è una delle aperture più formidabili del volume, soprattutto nella direzione del mondo celtico, e troverà naturalmente qualcosa su cui riflettere, anche perché offre per la prima volta un chiarimento scientifico a proposito dell'etimologia del toponimo di Varese, che ha sollevato qualche problema storiograficamente, c'è un Varese qui, c'è un Varese Ligure e c'è un Varallo che viene ricondotto anche a quell'ambito onomastico che dà appunto il nome alla nostra stessa città. Questo ve lo lascio scoprire. Il volume, tengo a dire, nonostante la mole, è anche un volume godibile, perché è ricco di illustrazioni, di figure. Non so se i relatori avranno modo di sottolinearlo, ma è stata una grande fatica acquisirle perché la campagna fotografica è stata realizzata per intero ex novo, proprio dal centro Stori Locali. Non presento, non dico oltre per non togliere spazio ai relatori rispetto al centro, mi limito a ricordare tra le prossime iniziative che sono già questo mese, che riguardano il centro, due appuntamenti che le dottoresse Claudia Biraghi e Sara Fontana, collaboratrici del centro e che hanno lavorato lacrimente per questo volume, terranno presso il centro espositivo Monsignor Macchi alla prima cappella. È un'iniziativa che si coordina dunque con questa tutela che viene dedicata al Sacro Monte, altro dei territori più rappresentativi, degli luoghi più rappresentativi di questo territorio. Domenica 8 aprile alle 15 si parlerà con la dottoressa Biraghi del turismo nel Varesotto degli anni 50 e domenica 15 aprile, lo stesso orario, il primo corso di alpinismo al Campo dei Fiori e il Sacro Monte, visto attraverso i ricordi di un protagonista che fu Angiolino Bianchi. Sarà riportato anche alla memoria di qualcuno e ricordo anche per l'altro ambito, quello invece sugli studi medievali e alto medievali, la prossima pubblicazione in collaborazione con l'Università Cattolica da parte del dottor Scharf e del professor Luccioni dell'Università Cattolica, un volume sul territorio varesino nel 200 che sarà soprattutto una guida e un censimento degli archivi minori che viene dopo una serie di volumi pilota che hanno già esplorato i reggesti delle pergamene edite in altre sedi. Ricordo la recente pubblicazione delle pergamene di Santa Maria del Monte e di San Vittore. Si gioca un po' su più livelli quelli che possono interessare gli specialisti, quelli che vogliono incontrare, come nel caso della storia di Varese, settimo dei 15 volumi previsti, abbiamo ancora un po' di strada da fare, abbiamo bisogno di incoraggiamento e anche per questo mi sentirei di dire che il volume non vorrebbe appartenere ai soli specialisti. Ringrazio il coordinatore, il personale del centro, gli studiosi del centro che ci hanno lavorato, i relatori presenti oggi e il sindaco Galimberti che ci fa l'onore di essere presente e al quale passo la parola. Se preferiva parlare alla fine siamo sempre... Il solito il sindaco scappa, allora grazie. Buonasera, grazie ovviamente a tutto il team che ha collaborato all'edizione di questo Tascabile, come vedete, mi sembra proprio appropriato il termine Tascabile, vista anche la mole e l'importanza del contributo. Come si commentava prima nel guardare il manuale, il volume, è il segno che la nostra città è estremamente ricco sotto il profilo storico, una città che ha molto da raccontare, soprattutto questa fase della nostra storia, proprio per anche il riconoscimento che direi a livello mondiale ha la nostra città nell'ambito appunto dello studio di questo periodo, anche grazie alla presenza dell'Isolino Virginia, rappresenta sicuramente un'opportunità incredibile. Quindi un'occasione anche non solo di approfondimento storico, non solo di conoscenza, ma anche un'occasione di visite. E quindi ecco perché l'attenzione dell'amministrazione comunale è altissima per cercare di far sì che il nostro Isolino sia sempre più punto di riferimento nel mondo per quanto riguarda appunto questi studi e per queste visite anche estremamente qualificate. Quindi ringrazio ovviamente il centro, ringrazio gli studiosi che hanno collaborato e l'invito che raccolgo è quello di proseguire nell'edizione dei futuri volumi perché penso che la città di Varese, come dicevo prima, ha molto da raccontare e da essere raccontata. Quindi grazie e complimenti per l'ottimo lavoro. Grazie signor Sindaco delle belle parole che le attribuiscono anche una responsabilità di essere Sindaco in uno dei territori che ha maggiore testimonianza e valori da presentare e da offrire al mondo, come si spera il futuro possa permettere di conservare e di valorizzare. Io ora lascio il mio posto alla professoressa Marinetti, il professore Arari guida l'incontro, a lui la parola. Siamo dunque arrivati a compimento della trattazione della parte antica della storia di Varese con questi due tomi, quello romano uscito prima perché era un po' più avanti nella lavorazione e il pre-protostorico uscito negli scorsi mesi. di gestazione complicata, come spesso accade quando si tratta di raccordare contributi di vari studiosi, poi complicata anche da eventi dolorosi. Ricordo che in particolare questo volume dedicato alla pre-protostoria aveva all'inizio nella sua strutturazione in un ruolo molto importante Maria Delaide Binaghi-Leva che scomparve in un incidente di montagna in maniera assolutamente tragica e sorprendente. Ci siamo arrivati e ne è venuto fuori, come tutti possono constatare, un'opera sul piano editoriale di grandi dimensioni, di grande impegno. Giustamente Gaspari ricordava questa campagna fotografica tutta originale, tutte foto nuove, tutte a colori, eseguite appositamente per quest'opera. Il problema di fondo sia del tomo romano sia del tomo pre-protostorico sta proprio nell'etichetta del territorio di Varese perché dobbiamo tenere presente che nell'ottica degli antichi, come in fondo anche nell'ottica dei moderni, la visione poliografica, cioè il fatto che ci siano delle città con intorno un territorio è essenziale. Ma il guaio, tra virgolette, è che Varese ovviamente non c'era, né come tale, né nel Neolitico, né nell'età del Brozo, né nell'età del Ferro, come Varese, ma neanche in età romana. Cioè qui siamo di fronte a una realtà urbana molto recente e quindi è impossibile adottare un criterio, diciamo, modernizzante in questo senso, proiettandolo su uno scenario così antico. Questa è anche la ragione per cui diventa così importante l'archeologia, perché venendo meno un polo urbano come tale, come potrebbe essere la stessa Milano piuttosto che Como, venendo meno un polo urbano come tale su cui anche orchestrare una lettura delle fonti letterarie, allora l'archeologia ha veramente la parola decisiva. L'archeologia nel senso della ricostruzione del passato attraverso le testimonianze della cultura materiale e accanto all'archeologia, naturalmente, nel momento stesso in cui cominciano ad apparire i primi documenti epigrafici, l'epigrafia e la linguistica. Ecco, quello che è via in fuori è dunque un'opera complessivamente intesa di forte impronta archeologica, di forte impronta archeologica, dove l'archeologia è il metodo che percorre attraverso tutti questi capitoli, in una ricostruzione che parte dal Neolitico e praticamente arriva fino alle soglie della romanizzazione. Archeologi quindi sono in larga misura gli autori che hanno scritto, che hanno concorso a quest'opera e archeologia noi l'abbiamo intesa e i nostri autori hanno interpretato perfettamente questo intendimento anche come riflessione sulla storia degli studi, cioè non solo l'oggetto di studio come tale, una certa facies, una certa cultura archeologica, una certa tipologia, ma anche sempre il tentativo di raccontare al lettore che cosa ci sta dietro alle tipologie, che cosa sta dietro alle definizioni delle culture archeologiche e quindi la storia degli studi che occupa una buona parte della trattazione che poi ritorna continuamente direi a farsi riconoscere come ossatura quasi del discorso. Per questa presentazione io ho pensato che fossero importanti due voci, tre ma due dal punto di vista più strettamente pertinenti al volume e cioè una è la voce del professor Raffaele De Marinis che è assolutamente la massima autorità riconosciuta per quanto riguarda l'età del bronzo e l'età del ferro e in Italia settentrionale non solo con una grande esperienza per quanto riguarda proprio l'ambito di questa zona diciamo dei laghi lombardi, della Lombardia e insomma della valle del Po in tutte le sue espressioni sia occidentali che orientali, ricordiamo naturalmente il suo ruolo essenziale nella scoperta del sito etrusco del forcello. De Marinis è uno degli autori del libro, ha scritto anzi i capitoli per certi versi portanti con una direi molto cortese predisposizione alla divulgazione quasi manualistica in senso buono intendo dire perché veramente io credo che uno studente che voglia capire qualcosa non solo del gola secca ma in generale di quello che è l'orizzonte del tardo bronzo e dell'inizio ferro nella zona alpina e cisalpina partendo proprio anche da conoscenze non sofisticate se prende in mano i capitoli cruciali di quest'opera veramente può formarsi anche sul piano metodologico idee estremamente chiare. Accanto alla voce del professor De Marinis, la voce della professoressa Marinetti che è qui direi in una duplice veste, tanto come specialista di linguistica e la linguistica dell'Italia pre-romana ha una posizione molto importante in questo libro perché il corpus delle iscrizioni epicorie della zona dei laghi è consistente, è in continuo incremento, ci sono anche delle novità nel libro e rappresentano veramente una fonte documentaria cruciale. Poco fa si è accennato all'interessantissimo capitolo a firma Prosdocimi e Solinas sul celtico di queste iscrizioni epicorie il professor Prosdocimi non è più con noi ma credo che la voce della professoressa Marinetti lo farà in un certo senso rivivere tra noi questo capitolo che ci ha lasciato non so se sia l'ultima cosa pubblicata ma sicuramente uscirà qualcosa d'altro ma qualcosa d'altro ci sarà sicuramente in corso di stampa ma sicuramente è uno di quelli suoi tipici prodotti in cui partendo da un problema che apparentemente può sembrare territoriale, circoscritto ne viene fuori veramente una scorribanda anche metodologica impressionante sul problema del celtismo in una chiave anche di riflessione sulla storia degli studi ecco celtismo è uno dei grandi temi del libro palafitte da una parte naturalmente isolino che abbiamo nominato, questo hotel incredibile centro dell'attenzione e questo grande tema del celtismo su cui appunto io non aggiungo nulla perché saranno i nostri interlocutori a chiarire quali sono le acquisizioni ormai da considerare definitive direi stabili, punti fermi e poi nel finale io suggerisco questo nel finale lascerò la parola all'architetto Caramella perché lei forse ci potrà dare un punto di vista anche grafico editoriale estetico del libro perché come tutti sanno io la chiamerei la regista scenografa più che la direttrice della rivista Sibrium che ha acquisito grazie alla sua direzione una veste di un'eleganza veramente a cui noi archeologi normalmente non siamo abituati quindi io allora seguirei questa sequenza De Marini Smarinetti e Lucina Caramella grazie ma dunque io innanzitutto ringrazio il professor Arari per le parole che ha rivolto ai miei contributi ovviamente fanno piacere mi trovo un po' imbarazzato a presentare un'opera nella quale io ho fatto due contributi abbastanza lunghi quindi presentare me stesso insomma un po' quindi non esaminerò ogni singolo contributo ogni singolo aspetto del volume cercherò di essere molto sintetico perché in realtà molto è già stato detto da Maurizio Arari che ha colto già il cuore e il nocciolo dell'impostazione del volume vorrei ricordare però un fatto che nel 2009 è uscito un corposo volume alle origini di Varese e del suo territorio le collezioni del sistema archeologico provinciale che è un volume di 739 pagine di grande formato 29x21 comprende però anche la parte romana e medievale e ora la storia di Varese il primo volume il territorio di Varese in età preistorica e protostorica e un'altra opera diciamo di una certa importanza corposa con 18 autori 436 pagine che affronta tutte le tematiche della preistoria e protostoria quindi diciamo che il territorio di Varese con queste due opere uscite a breve distanza sì, 8 anni, 6, 7 anni però insomma ha un riferimento bibliografico particolarmente significativo per intraprendere nuove ricerche per i futuri sviluppi anche gli studenti insomma hanno un punto di riferimento molto ricco che spesso per altri territori non abbiamo insomma vorrei quindi ricordare anche l'importanza del volume che ci ha preceduto naturalmente hanno un'impostazione del tutto differente infatti Maurizio quando aveva saputo di quest'opera si era allarmato e mi ha scritto io gli ho risposto no guarda sono impostazioni diverse perché chiaramente erano le collezioni del sistema archeologico quindi provinciale quindi museo per museo si analizzavano i materiali delle singole periodi della preistoria protostoria tra romana e tra medievale certamente con un taglio molto scientifico ma è chiaro che la storia di Varese invece ha un taglio di sintesi di opera di sintesi che può beneficiare di tutta la documentazione che è stata pubblicata proprio in occasione del volume del 2009 quindi due opere diverse come impostazione ma che integrandosi tra loro costituiscono un formidabile punto di partenza per studenti e anche studiosi e per nuove ricerche io non posso soffermarmi su tutti i contributi salterò un po' qua e là innanzitutto tra i primi contributi c'è quello di Mark Pierce che è già stato ricordato che affronta la storia della ricerca è una ricostruzione molto accurata che potrebbe stupire visto che è attuata da un locale insomma perché c'è tanta letteratura che è nascosta in piccole riviste locali eccetera però evidentemente Pierce ha una familiarità notevole con Terilla Lombardia il territorio eccetera perché è una ricostruzione veramente accuratissima ma soprattutto mi viene fuori l'esperienza dello studioso anglosassone vista sullo sfondo degli sviluppi e del contesto europeo e questo è fondamentale perché è riuscito a inserire il dato locale insomma negli sviluppi più generali della ricerca preistorica e protostorica quindi è un contributo che ho apprezzato moltissimo ecco Pierce in questa sua storia della ricerca evidenza anche un problema cronico quello del museo archeologico di Varese il suo continuo farsi e disfarsi nel corso del tempo perché ha una storia veramente di farsi e disfarsi in continuazione e Pierce mette in rilievo come questo sia un punto di debolezza insomma perché ci vuole la continuità di gestione scientifica divulgazione valorizzazione viene tutto alla base c'è la ricerca scientifica se manca quello tutto è perduto e poi ho apprezzato ancora di più la parte che Pierce ha dedicato alla figura di Mario Bertolone studioso che io ho sempre molto apprezzato fin da quando ero studente ecco Pierce traccia un profilo di Bertolone che ricordiamo era un'autodidatta ma questo non è anzi è una nota di merito perché ha saputo porre le basi diciamo di una ricerca moderna per esempio sulla cultura di Gola Secca ma il Bertolone è stato importante come sottolinea Pierce non soltanto per le ricerche che ha condotto autonomamente insomma all'isolino al museo di Como sui materiali di Gola Secca ma anche come promotore di ricerche innovative cioè pensiamo tutto il problema dell'archeometallurgia che in Italia era assolutamente trascurato diciamo arrivato a un punto morto e Bertolone seppe con l'appoggio di persone di notevole spessore ricordo qui la figura dell'ingegner Costantino Storti ha dato di grossi contributi alla rivista Sibrium e alle analisi archeometallurgiche quindi era uno studioso valido sul piano scientifico ha fondato due riviste ha organizzato e lui è che il creatore del museo insomma archeologico di Varese e era attento anche alla valorizzazione e alla divulgazione insomma perché Bertolone era molto attento ai rapporti con le scuole cioè una figura a mio avviso che è stata un po' dimenticata ingiustamente e che Peirce valorizza pienamente questo mi ha fatto molto piacere perché io quando ero studente ho imparato moltissimo leggendo gli articoli di Mario Bertolone e quello che insomma un po' mi lascia perplesso è che Peirce dice dopo la scomparsa prematura purtroppo di Bertolone è stata un po' una crisi insomma gli ultimi 50 anni non li tratta praticamente come se fossero anni in cui non è capitato non è accaduto quasi nulla è vero che è un quadro di luce e di ombre però insomma comunque i progressi che sono stati fatti in questi ultimi 50 anni sono notevoli ecco forse qualche cenno in più sarebbe stato utile insomma però ripeto è un contributo veramente importante e significativo il contributo successivo è di Lanfredo Castelletti e Sila Motella dedicato alla ricostruzione dell'ambiente soprattutto negli ultimi 10.000 anni e al tema dell'interazione uomo-ambiente anche qui con un profilo storico di questo settore della ricerca allargato poi a tutta la regione ovviamente e anche oltre a tutta l'Italia settentrionale all'area alpina è una parte molto specialistica ma molto ricca di belle immagini a colore e ricca soprattutto di box forse è l'articolo che ha il numero maggiore di box uno dedicato alla Bate Stoppani uno a Sordelli che era un paleobotanico uno all'archeologia ambientale uno alla palinologia cioè lo studio dei pollini poi un altro all'adattazione della carbonica un altro la dendrochronologia all'altro antracologia che è lo studio dei legni e carboni allo studio dei resti macroscopici cioè semi e frutti insomma i box sono metà del contributo insomma e però è utile per essendo argomenti molto specialistici insomma come chi fa archeologia ha una formazione soprattutto letteraria perché fa la facoltà ma non esiste più ma io continuo a chiamarla facoltà di lettere insomma cambiati i nomi ma la realtà è quella e quindi capire cos'è una datazione radiocarbonica come opera la dendroecologia a cosa serve lo studio di pollini è importante insomma quindi è una poi una ricostruzione del clima dell'ambiente del territorio a partire appunto dallo studio delle evidenze che l'Anfredo Castelletti e la Sira Notella conoscono meglio cioè i legni i carboni i semi i frutti ma c'è anche un accenno all'archeozologia e alla fine è molto opportuno c'è un quadro generale di sintesi insomma perché dopo Castelletti segue Daria Banchieri con il capitolo sul Neolitico anche questa è una parte ricca di immagini a colori a volte a piene pagine a volte addirittura a due facciate vi sono due ampi box dedicati a due siti chiave per il Neolitico cioè il pizzo di bodio e l'isolino e vi sono anche degli schemi tipo cronologici realizzati componendo una tavola con fotografia dei reperti più significativi per le singole fasi cronologiche e questo è molto didattico e utile anche per lo studente e quindi insomma più di linea Daria Banchieri che tra l'altro è l'esperta appunto dell'isolino del pizzo di bodio dove ha scavato per anni e scava tuttora se non erro all'isolino un quadro aggiornato per esempio è apprezzabile tutta la quantità di date radiocarboniche che sono elencate veramente numerose insomma e citate nel lavoro anche sotto forma di tabella e poi dovrei parlare dei miei due contributi ma sono un po' imbarazzato dico solo alcune cose le neolitico e l'età del bronzo ecco qui la parte iconografica non è così esuberante come nei precedenti contributi ma si alternano fotografie dei reperti a disegni dei materiali secondo lo stile proprio del disegno archeologico e a carte di distribuzione l'approccio potrebbe sembrare più serioso rispetto ai contributi precedenti ma credo solo in apparenza innanzitutto ho ritenuto utile all'inizio del contributo spiegare in maniera diffusa il concetto di protostoria e del suo uso nella ricerca dei vari paesi europei e extraeuropei perché se tutti sanno anche il grande pubblico che c'è una preistoria che ci sia una protostoria dico per persone colte magari anche per il rettore dell'università di Milano non quello attuale ma uno precedente che ha sentito parlare di protostoria ma cos'è la protostoria ed era difficile spiegarlo ora non è non è un si senti parlare di protostoria europea protostoria italiana uno storico rimaneva molto perplesso e invece è un concetto che va chiarito insomma così come si chiarisce il concetto di neolitico il cui uso cambia da paese a paese insomma in ambito europeo ci sono diversi significati attribuiti a questa etichetta sono questi tutti aspetti propedeutici poi alla comprensione dei ritrovamenti che sono stati effettuati nel nostro territorio così anche nel contributo sulla prima età del ferro c'è all'inizio una spiegazione sul concetto di età del ferro che varia cioè viene interpretato in modo differente a seconda di diversi ambiti della ricerca è datato anche in maniera diversa a seconda dei paesi dal vicino oriente fino alla scandinavia quindi sono tutti dei concetti che è bene chiarire all'inizio ma soprattutto e questo ci tengo siccome parliamo di civiltà di gola secca di comprensorio proturbano di gola secca sesto calenne castelletto ticino che cos'è un centro proturbano ecco e qui dedico dello spazio per chiarirlo e io mi ispiro a un sociologo che è Max Weber a un grande antropologo e preistorico che è Andrele Ruaguran ha un grande storico dell'economia sì certamente è datato come Heichelheim ma comunque insomma per arrivare a cercare di far capire che un centro protostorico è in realtà una città cioè non una città con monumenti grandiosi con pianificazioni urbanistiche eccetera ma con lo schema essenziale della città cioè che è un centro abitato in cui la maggior parte degli abitanti non è coinvolta nella produzione primaria cioè nella produzione del cibo quindi non sono né contadini né allevatori né pastori ma saranno qualche cosa d'altro sono le elite sociali gli artigiani i mercanti i servi gli addetti al culto ecco ora se vogliamo su cosa sia la città c'è una letteratura sconfinata insomma però lo schema essenziale della città è questo che quindi c'è un rapporto di indipendenza fra il centro urbano che organizza un territorio ed è in rapporto con la campagna perché queste persone che non producono il cibo e il cibo deve arrivare da qualche parte arriva dalla campagna volenti o nolenti insomma con le buone o con le cattive ecco quindi perché città centro urbano significa anche nascita della società di classe insomma questo deve essere chiaro come concetto e allora una volta che è chiarito il concetto di centro proturbano che è stato molto fecondo nella storia degli studi sugli esordi anche ovviamente in primis in ambito villanoviano ed etrusco insomma sappiamo bene che con la rivoluzione cosiddetta rivoluzione villanoviana inizia in realtà la storia dell'Italia insomma ecco ecco io non voglio portarvi altro tempo in mezzo ai miei due contributi l'Italia del bronzo da una parte e la prima del ferro dall'altro c'è il contributo di Nicoletta Martinelli sulle palafitte del lago di Monate anche qui con delle belle immagini a colori un box sulla cronologia assoluta del sabbione Martinelli analizza le strutture dell'abitato presenta i dati della dendrocronologia che hanno permesso di individuare diverse fasi della storia di questo abitato la palafitta del sabbione discute anche dei materiali culturali sì qui entreremo in un campo troppo specialistico insomma io non condivido sempre le proposte ma soprattutto condivido una cosa cioè se si danno più nomi differenti allo stesso concetto tassonomico si crea della confusione tra la comunità scientifica e soprattutto per il pubblico allora per evitare la proliferazione di nomi vige in campo internazionale il principio di priorità cioè il nome valido di un taxon è il nome più antico quello che è stato dato per la prima volta tutti gli altri nomi che gli sono attribuiti successivamente a determinate entità sono dei sinonimi e quindi vanno scartati ora la Nicoletta Martinelli mi ha avviso purtroppo adotta questa nuova etichetta di Bodio Monate Pollera che è stata creata nel 2014 al posto di una etichetta in uso da 30 anni che è quella di aspetto culturale tipo Monate Mercurago e perché è stata creata sottoscritto va bene ma perché sono stati scelti questi due nomi perché da Monate proviene un esemplare di tazza a tingitoio con Hans ad Ascia completo nella collezione Castelfranco perché purtroppo da queste parafitte il lago di Varese per l'età del bronzo abbiamo frammenti cocci di impasto grossolano frammenti di orlo parete con cordoni cioè cose molto esaltanti dal punto di vista invece una tazza a tingitoio con l'ans ad Ascia è un elemento molto caratterizzante molto tipico e c'è da mercurago abbiamo un esemplare simile quasi completo quindi diciamo il fossile guida il tipo guida viene da queste due parafitte ed è per questo che ma comunque è un'etichetta che c'è da 30 anni e non ha senso cambiarla insomma è molto semplice d'altra parte le etichette non vengono cambiate neppure quando sono sbagliate mi faccio un esempio no perché c'è proprio a livello internazionale il principio di priorità no faccio un esempio della paleontropologia australopithecus africanus cosa vuol dire australopithecus la scimmia dell'emisfero australe oggi noi sappiamo che gli australopitheci non sono scimmie ma sono ominidi o ominini allora l'etichetta che ha in sé nella sua etimologia un errore di impostazione viene oggi ancora dopo quasi un secolo utilizzata e non si cambia perché vale la legge del principio di priorità questo a livello della tassonomia seguono poi altri contributi importanti questa è stata un'idea di Maurizio Rari fare dice cosa succede a ovest del territorio varese cosa succede a est cosa succede a sud adesso questi contributi sono diversi diseguali per dimensioni anche per contenuti io direi che l'aspetto che più mi ha interessato è quello della Paltineri adesso qui dovrei tirar fuori perché basta mettere a confronto due carte che pubblica la Paltineri adesso trovarle è più difficile una carta dei ritrovamenti ecco qua diciamo dalla bassa padana a nord del Po insomma lombarda piemontese fino alla Liguria nel corso del nono ottavo e settimo secolo con la carta invece dello stesso territorio nel sesto e quinto secolo c'è un incremento impressionante di ritrovamenti e questo con cosa va messo in relazione con la fondazione di Genova da parte degli etruschi e con diciamo lo sviluppo e l'apogeo dell'Etruria padana dei commerci dell'Etruria padana che metteva in comunicazione Atene la rotta dell'Adriatico Adria Spina l'area padana eccetera quindi si vede questo è molto significativo insomma dopo questi tre contributi che guardano quello che accade nei dintorni abbiamo la parte linguistica io quindi cedo la parola alla professoressa Marinetti ma permettetemi di dire che la lettura del saggio di Prosdocimi e Solinas è stata un godimento dello spirito con questo cedo la parola grazie io sono grata per l'invito all'incontro di questa sera nei confronti degli ospiti del centro nei confronti di Maurizio Rari che ha curato questo volume e come potete immaginare non è solo la gratitudine del collega che si si sente invitato da parte mia c'è ovviamente qualche cosa di più perché già è stato ricordato più volte questo volume ha visto appunto uno degli ultimi lavori di mio marito Aldo Prosdocimi e anche per questo naturalmente è un'occasione che mi vede particolarmente come dire colpita commossa e felice nello stesso tempo imbarazzata pure nel senso che la presentazione dei contributi che in questo volume hanno a che fare in qualche modo con la lingua quindi con la lingua con l'epigrafia ma anche con altri aspetti della lingua come la toponomastica in realtà mi vede in parte direttamente anche se non come autrice coinvolta e questo come ha detto Raffaele De Marinis parlando dei propri contributi è sempre in una qualche misura imbarazzante non sono un autore mi spiace oltretutto Patrizia Solinas che aveva che ha come dire contribuito all'articolo per ragioni di salute non ce l'ha fatta e oggi mi ha chiamato pensavo che riuscisse a partire si scusa e saluta e saluta e ringrazio a tutti i presenti quindi non sono un autore d'altra parte mi viene anche difficile fare il critico nei confronti di come dire un'impostazione che naturalmente mi ha visto a fine per molti anni su cui è evidente che farei fatica a fare delle critiche peraltro altri lavori in questo volume fanno riferimento a questioni riguardanti la lingua e l'epigrafia se vogliamo a partire anche dall'articolo introduttivo di Ardovino in cui con notevole determinazione vengono ribadite alcune esigenze metodologiche tra queste cosa di cui appunto noi linguisti siamo grati tra questi il ribadire le esigenze metodologiche della lingua quindi il rischio ad esempio delle etimologie non scientifiche per quanto affascinanti o per quanto interessanti possano essere l'attenzione alla attribuzione di categorie quali l'etnicità o la linguisticità di un gruppo traduciamoli nei termini di celti galloromani per la fase di prossimità di romanizzazione e così via certamente richiami all'attenzione metodologica che non possono non vederci assolutamente convinti anche se in qualche modo se permettete poi riprenderò fra breve la questione la questione metodologica altri articoli naturalmente altri contributi come il contributo di Gambari che mette insieme quelli che sono i due diciamo così aspetti caratterizzanti che rendono il territorio di Varese speciale del tutto speciale nell'ambito della delle delle culture dell'Italia nord-occidentale ma direi insomma in generale delle delle culture dell'Italia ad una certa data che è la combinazione di formazione precoce di una realtà protourbana se così possiamo chiamarla connessa intrecciata con la presenza e con l'arrivo della scrittura con l'arrivo e la presenza della scrittura tema di straordinario interesse ma tema anche di grande complessità da affrontare e appunto se c'è qualche cosa che mi consente di parlare qui anche in in qualche modo a nome degli autori che appunto Aldo Prosdocime e Patrizia Solinas hanno che hanno scritto contributo diciamo più ampio di tipo linguistico se dicevo c'è qualcosa che mi consente di parlare è probabilmente proprio questa condivisione con loro di una prospettiva che vede la complessità che vede la complessità nelle situazioni e in quanto noi andiamo a dedurre dai fatti e cioè dai dati dai dati di lingua dai dati ancora prima materiali dell'archeologia e così via all'insegna della complessità in realtà perché la complessità perché il reale è complesso il reale è complesso e se è vero e se è valido che dal punto di vista dell'operare la semplificazione è utile dobbiamo anche essere coscienti che stiamo semplificando per raggiungere un certo obiettivo la semplificazione può essere utile i modelli possono essere comodi la realtà è di solito più complicata non faccio esempi di carattere materiale archeologico non me le permetterei non ho alcuna competenza vi faccio solo un banale esempio all'interno della mia disciplina la linguistica che riguarda la diciamo così i rapporti tra le lingue e la parentela delle lingue che viene di solito proposta e schematizzata attraverso un bel modello che si chiama albero genealogico Stonbaum bello chiaro limpido per cui abbiamo la lingua madre dalla lingua madre si diramano a rami altri gruppi quindi lingue figlie da queste a loro volta diramazione altre lingue figlie fino ad arrivare alle ultime lingue attestate un bellissimo schema chiarissimo dal punto di vista quindi come dire cognitivo ottimo assolutamente lontano da quella che è la realtà delle lingue che non funzionano in questo modo che non funzionano per split successivi che non si distribuiscono ma quando mai secondo questa logica che vedono tra di loro una un complicarsi e un intrecciarsi di tipo orizzontale di contatti ma di formazione anche all'interno delle stesse realtà che tutto è tranne che lineare questo tra l'altro non dovrebbe meravigliarci molto perché questa linearità di tipo genetico è in qualche modo messa in discussione se non sbaglio non sono cose di cui sono competenti ma le sentiamo addirittura nella scienza dalla genetica attuale per cui esiste la continuità genetica che dà certi risultati ma accanto a questo esiste l'ambiente e accanto a questo esiste addirittura l'epigenetica che è l'ambiente che trasforma la genetica quindi se già quello è complicato come dire figuriamoci quando poi ci mettiamo in mezzo quello che è l'elemento storico e quando intendo elemento storico non voglio dire corso della storia o passare del tempo storico è la dimensione in cui si realizza un qualsiasi evento situazione in cui una società si trova con le sue dimensioni e da questo punto di vista storia credo possa in qualche misura essere interpretata nello stesso modo in cui Maurizio Arari prima ha parlato di archeologia quando diceva ha un taglio spiccatamente archeologico il lavoro tutto il volume si ha un taglio spiccatamente archeologico perché deve averlo perché la prima pertinenza è quella di vedere cosa dicono i materiali ma è un taglio archeologico che si trasforma in un taglio storico nel senso che dà la misura dà il senso di come questi materiali ci fanno recuperare la prospettiva storica quindi da questo punto di vista come dire non solo è opportuno ma direi che è necessario questa prospettiva archeologica se come in questo caso viene coniugata con una prospettiva storica e sto un po' divagando ma voglio ricordarlo anche con un caso proprio nel contributo di Maurizio Arari con un caso in cui queste prospettive si mettono a confronto con un'altra prospettiva che è quella delle fonti antiche tema delicatissimo in quanto nessuno più naturalmente credo sia così ingenuo da pensare che le fonti ci raccontano ci raccontano ci trasmettono dei racconti ci trasmettono quello che è successo le fonti sono sempre tutte orientate ideologizzate gli autori antichi non scrivevano per raccontare a noi la fiaba avevano sempre come dire un background di tipo ideologico politico che li portava a questo però esistono le fonti esistono e nello stesso tempo in cui non gli si può dare il totale credito che forse in un lontano passato si dava non si possono neanche respingere negandone completamente qualsiasi negandovi qualsiasi valore e devo dire che il contributo di Maurizio Arari su questo è di rara eleganza non saprei veramente come altro descriverlo è di rara eleganza nell'equilibrio tra il trarre dalle fonti quello che si può trarre a confronto con una realtà materiale archeologica e anche come dire un occhio smaliziato nella lettura delle stesse fonti in un modo che veramente di cui veramente ho apprezzato all'estremo l'equilibrio ritorno alla questione della complessità allora la complessità è un po' insita devo dire nella tematica linguistica ma quando parlo linguistico per questi ambiti dovete pensare che io parlo di lingua portata attraverso mezzo epigrafico il che vuol dire attraverso un supporto materiale quindi non si può parlare così in astratto solo di lingua la complessità come dire è dalle origini perché in effetti la storiografia la storia degli studi in quest'ambito nell'ambito diciamo del celtismo dell'Italia dell'Italia del nord ha visto veramente degli alti e bassi dei cambiamenti a volte anche radicali di prospettiva delle impostazioni radicalmente sbagliate da cui non si riusciva a come dire togliersi quasi quasi invischiati in alcuni principi e in questo devo dire che anche la linguistica ha avuto i suoi in qualche modo i suoi i suoi torti ha le sue responsabilità lontana ma non ancora del tutto dimenticata la prospettiva sostratistica per esempio la prospettiva sostratistica che è stata un must di una certa linguistica storica soprattutto italiana molto italiana parliamo di quasi cent'anni fa se intendiamo senz'altro la sostratistica che cosa vuol dire in parole povere vuol dire il recupero il riconoscimento e il recupero di strati di lingua precedenti a quelle che vengono poi documentati attestati il sostratismo ha visto un'ondata di entusiasmo nel momento in cui si è utilizzato il concetto di sostrato per spiegare tutto quello che non si riusciva a spiegare quindi questa parola non riesco a farne un'etimologia con i mezzi che la scienza se permettete linguistica ci dà a disposizione quindi non riesco a rinviarla al latino non riesco a rinviarla andiamo ancora indietro all'indoeuropeo non riesco certo è sostrato quindi è una lingua pre-indoeuropea e lì abbiamo risolto ora è evidente che è possibile che gli strati ci siano ma una cosa è utilizzare una prospettiva di stratificazione della lingua che c'è è inesorabile e altra cosa è usare questo concetto come vorrei essere non vorrei essere triviale ma insomma patumiera in cui buttiamo tutto quello che ci infastidisce e non e non ci va bene e il sostrato ha dominato quindi il sostrato mediterraneo a sfare in Italia ma in Grecia in Asia Minore e così via sostrato pre-indoeuropeo tutto l'arco alpino non voglio dire che non possa esserci qualcosa ci sono delle cose che forse vanno riportate indietro ma non certo in questo modo perché chi utilizza il concetto di sostrato ora nessuno quasi più lo utilizza ha comunque l'onere di dimostrare o perlomeno ipotizzare che cos'è che cosa non è e così via nell'ambito che ci interessa ad esempio l'operazione sostrato ha creato una serie di preconcetti soprattutto per quanto riguarda non tanto queste aree per quanto riguarda il concetto di Liguri il concetto di Liguri su cui molto è stato detto io penso sempre ecco fate conto questo bene dei Liguri non abbiamo una iscrizione allora quando mi parlano della lingua dei Liguri io vorrei che qualcuno mi dicesse scusa dove la troviamo e questo senza negare che abbiamo altre vie abbiamo la toponomastica abbiamo i nomi di luogo su cui sono state scritte cose interessantissime ma è un'altra cosa quindi equivoci che però i Liguri non solo dovevano avere una lingua ma questa doveva essere pre-indoeuropea bene condizionamenti da cui faticosamente ci si è liberati ma ci si è liberati faticosamente anche da altri condizionamenti in qualche modo autoimposti autoimposti e qui ad esempio io non posso non ricordare la rivoluzione che Raffaele De Marinis ha innescato con la revisione della cronologia dell'iscrizione di Prestino è stata veramente non vorrei sembrarvi esagerata ma è stata veramente per noi almeno che ci occupiamo di lingua più o meno direttamente è stata veramente una rivoluzione perché l'iscrizione che era conosciuta era stata pubblicata e così via veniva collocata in una cronologia di terzo secondo terzo secondo perché che volete che vi dica non lo so forse le cronologie basse sono più rassicuranti ci danno meno ci danno meno problemi certo che ci danno meno problemi perché una cosa è parlare di secondo una cosa è parlare di settimo o di sesto o di quinto anche ma non c'era nessuna base non c'era nessuna base su cui fondare questa eppure la circolazione di questa cronologia sbagliata come dire come dicevo prima invischiava in qualche modo tutto il resto e la possibilità di e la possibilità di invece riconoscere quello che c'era perché era un celtismo sì ma era un celtismo con tratti ancora antichi chiamiamolo così era un celtismo che si stava facendo uso questo concetto di farsi di una lingua che era molto caro a mio marito ha innescato una rivoluzione perché come dire ha spostato questa questo termine in alto e da lì improvvisamente si è aperto il quadro si è aperto il quadro dell'alfabeto si è aperto il quadro della lingua delle caratteristiche della lingua in loco e in relazione con quello che è in effetti imparentato cioè il celtico il resto del celtico di cui appunto qui abbiamo un esempio però celtico è una grossa famiglia linguistica e ripeto a cascata in qualche modo si sono chiarite chiarite queste cose quindi da una parte abbiamo dei condizionamenti che in qualche modo ci costruiamo e che a volte è difficile smontare ma che vanno smontati dall'altra parte e qua continuo a ribadirlo a costo di essere noiosa dobbiamo mettere in conto la complessità la complessità vuol dire che non dobbiamo non dobbiamo pensare alle trafile lineari che vanno bene che sono rassicuranti ma che di solito non funzionano e su questo io vorrei farvi qui perché non sto facendo mi scuso se sembra che stia facendo una lezione ma sto parlando di un lavoro e in questa in quest'opera ci sono alcune alcune temi su cui riflettere uno di questi uno di questi è collegato a quanto dicevo prima la straordinarietà in qualche modo della precoce presenza della scrittura nella nell'epigrafia nei documenti epigrafici dell'ambito di Varese quindi Sesto Calende Castelletto Ticino a quello faccio riferimento che però ci dà alcuni problemi allora da una parte in qualche modo mi è sembrato di come dire cogliere una prospettiva che in qualche modo come dire rovescia il problema di una celticità che una volta si pensava tardiva e ora tardiva non è affermando una celticità che come dire autonoma autoreferenziale se vogliamo anche in qualche modo che respinge l'idea di una presenza o di un contatto etrusco cosa su cui devo dire mi sembrerebbe di dover dire forse pensiamoci perché perché la scrittura non arriva e mi spiace per chi l'ha scritto la scrittura non arriva con le merci e con l'idea e arriva la scrittura la scrittura è qualcosa che si insegna che si apprende che ha bisogno di molto tempo non è il mercante che arriva con l'alfabeto in tasca e te lo dà il contatto con gli etruschi qualunque sia ovunque sia deve esserci stato allora io non trovo scandaloso ipotizzare che l'iscrizione di settimo secolo noi non possiamo sì la yunta naca non possiamo definirla celtica se la definiamo etrusca con una componente di celticità forse è meglio quindi la complessità con cui si devono vedere le cose come dire secondo me lungi dal bloccarci o dall'impedirci di fare progressi credo anzi ci apra diverse prospettive ci apra prospettive ecco certamente a volte impedisce di dare delle soluzioni definitive questo sì però per fortuna siccome credo che chiunque faccia il nostro lavoro con un minimo di coscienza alle soluzioni definitive non crede e anzi e anzi se ne guarderebbe bene penso che anche questo a modo suo possa essere un contributo al progresso delle conoscenze grazie ringrazio molto credo che il pubblico abbia colto bene come un lavoro come quello che presentiamo sia un lavoro storico si possa fare la storia anche con la preistoria e la protostoria cioè è sempre storia e questo è un libro che cerca di fare storia cioè partendo dai materiali di dare una visione di sviluppo la seconda cosa è un libro che cerca anche di comunicare per cui ci sono cose molto complicate come è stato giustamente ricordato che si possono dire distinguendo bene per esempio l'uso della terminologia l'uso delle etichette e così questo era lo sforzo è lo sforzo di questo lavoro adesso chiudiamo con Lucina Caramella prima del cui intervento però vorrei ricordare chi sono stati i protagonisti dell'aspetto proprio editoriale del libro perché dobbiamo ringraziare Claudia Biraghi e Sara Fontana che sono state insieme al resto dello staff veramente un aiuto preziosissimo e il fotografo Orsi che abbiamo menzionato indirettamente senza farne il nome adesso il nome giustamente lo dobbiamo lo dobbiamo fare prego grazie allora io ringrazio ancora il professor Arari per avermi invitato qui questa sera e ringrazio anche il professor De Marinis per aver ricordato ancora una volta Mario Bertolone sì certo Mario Bertolone è stato forse colui che ha permesso a noi oggi di essere qui a tessere le lodi di un territorio così ricco di storia così ricco di testimonianze ed essere proprio nel luogo che lui sotto certi punti di vista ha creato il museo l'ha curato ha avuto alti e bassi ovviamente nel tempo però molte di queste testimonianze che sono state studiate sono raccolte proprio qui al museo quindi è molto bello che il territorio raccolga questi record perché forse di questo stiamo parlando che vanno non solo nella direzione dell'esposizione nella vetrina dell'oggetto certo la stella di Vergiate non può essere esposta in una vetrina ma mostra quanto importante sia stato nella sua complessità il territorio certo è bello poter dire che l'isolino e Virginia è il più antico abitato palafitticolo preistorico all'interno di sei nazioni all'interno di mille insediamenti individuati ed essere il più antico di 110 è fantastico ma il territorio di Varesino ne ha anche altri di record il Monte San Giorgio credo che il Monte San Giorgio non siamo abituati a ricordarlo però fossili di 260 milioni di anni fa fanno venire i brividi ed è anche quello territorio di Varese quindi è un bell'ambiente in cui vivere e in cui studiare e a me fa piacere poter dire che con non poca fatica l'opera intrapresa da Mario Bertolone per divulgare per la didattica che tra i vostri grandi volumi ogni anno ormai si inserisca puntualmente il volume di Sibrium con fatica perché è comprensibile ho apprezzato anche la scelta del curatore molte immagini sono prese sia da Sibrium sia dai pannelli che illustrano e quindi per me è un'emozione non lo nascondo un'emozione è una gioia e quindi il fatto di poter dire ogni anno una piccola goccia che va nella direzione non certo di volumi che parlano solo di archeologia ma ormai Sibrium è una collana così come è stata fondata di studi e documentazioni ma è sempre stato pensato come centro di studi preistorici e archeologici finalizzato a quello ho capovolto l'ho fatta tornare ad essere una collana di studi e documentazioni quindi mi fa piacere che il nostro territorio abbia adesso due colonne così importanti ma anche bibliograficamente così aggiornate perché sappiamo che gli aggiornamenti per gli studenti per gli studiosi sono importanti quindi io ringrazio concludo qui buona lettura e complimenti ancora perché veramente è molto molto bello grazie grazie grazie